Anche i pannolini non li puoi tenere? No, no, non li posso tenere dentro la camera perché se no li dobbiamo buttare, quindi li dobbiamo mettere qui la scorta di pannolini, le lenzuola e tutto il resto del bambino. Lei si chiama Natascia, un bambino di pochi mesi. Insieme ad altre decine di famiglie da anni vive in case che di abitabile hanno ben poco. Entriamo nei loro appartamenti, siamo a Fontana Vecchia, case popolari di Campobasso dove umidità e muffa hanno invaso ogni angolo. Nelle stanze, delle camere da letto, alle cucine è una situazione drammatica. È una casa invivibile, comunque si sente molto forte l'odore dell'umidità. Comunque è un bambino anche di nove mesi, diciamo che non è adatto. Tu sei costretta a tenere gli indumenti nei contenitori che ti ingombrano dappertutto? Sì, anche perché molte cose le abbiamo dovute cestinare, anche perché anche se si lavavano non erano in grado di riprendersi come erano prima. Quindi dobbiamo tenere i vestiti nei contenitori e anche i piumoni e le lenzuola, anche perché sono bagnate. Queste famiglie hanno più volte sollecitato interventi, ma le risposte ricevute sono state sconfortanti. Sì, abbiamo parecchie volte comunque contattato l'Istituto delle Case Popolari di Campobasso, però venivano a fare degli interventi, venivano a fare le solite fotografie nell'appartamento. Però più di tanto è stato tutto a spese nostre, tutto quello che abbiamo fatto. È vero che vi hanno consigliato di aprire, di areggiare? Sì, sì, perché ci dicevano che il motivo di tutto ciò era perché cucinavamo troppa verdura. Scendendo lungo le scale sono evidenti gli altri gravi problemi, anche di sicurezza, gli ambienti comuni si allagano facilmente, ci sono finestre e porte pericolanti e già in passato si sono rischiati incidenti. Succede che piove per le scale, piove qua. Vedi questo blu? Se ne sta andando per terra. Perché è successo? Giù al quarto piano. Che è successo? Se ne è caduto tutto... Lo blu si è staccato perché piove, perché c'era l'acqua. C'era il bendo e di fatto questo già si sta staccando, pure questo. Però quello se ne è caduto proprio per terra. E meno male che è successo che non si è trovato nessuno. Si trovava un bambino, una persona l'ha ammazzata. È un problema proprio di struttura, nel senso che questo palazzo secondo me non è agibile. È fondato su... Ci stanno delle sorgenti di acqua sotto, praticamente pieno di acqua, infiltrato di acqua da tutte le parti, dal tetto alle fondamenta. Quindi si sta collando proprio a pezzi. È vero che anche le finestre, insomma, vi sembrano... Sì, abbiamo problemi... Qua quando piove, dalle finestre, entra l'acqua perfino dentro. Bisogna stare attenti perché per le scale si scivola, entra dentro l'acqua. E scendendo nelle cantine che troviamo una situazione impressionante. Qui dentro gli allagamenti hanno travolto ogni cosa. C'è poi anche un problema di sicurezza in questi ambienti. Spesso hanno trovato rifugio tossicodipendenti. Sono state fatte anche denunce alla polizia. E c'è anche il problema degli animali, dai topi ai cinghiali. Praticamente si riempie d'acqua, si fa pure mezzo metro d'acqua. Bisogna fare dei ponticelli per camminarci perché se no non si può accedere. Perciò sono stati messi questi passaggi? Sì, sì, altrimenti non si può accedere. Qua è una piscina, qua. Comunque questa è la mia cantina. Sta tutta ricoperta di porcherie. Guardate che situazione che c'è qui dentro. Semmai c'è stato tipo un terremoto. Ma anche qui sotto si sono... Non andate a più in là perché là è tutto spontaneo.